Buongiorno a tutti oggi preparo una torta con albicocche e crema di limone Per l'impasto mi occorre 400 g di farina, 180 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 100 ml di latte, 100 ml di olio, un pizzico di sale, vaniglia, 5 uova e la buccia grattugiata di un limone Poi mi occorre 400 g di albicocche fatta a pezzetti e 300 g di crema al limone Inizio la preparazione, metto le uova in una bowl, aggiungo lo zucchero e li monto A questo punto metto l'olio, il latte, la buccia grattugiata del limone Continuo a mescolare E piano piano aggiungo la farina A questo punto aggiungo un pizzico di sale, la vaniglia E il lievito precedentemente setacciato Finito di preparare l'impasto, aggiungo le albicocche A questo punto metto in una teglia di 30 x 40 cm precedentemente imburrata A questo punto metto la crema in una sac a poche E la metto sopra Una volta pronta la vado ad infornare in forno caldo e statico A 180 x 40 minuti Eccola pronta Metto un po' di zucchero a velo sopra Ora la taglio Pronta da gustare Bella soffice Grazie della visione Alla prossima Iscrivetevi al canale Condividete Mettete mi piace Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti